Presentata in centro a Ravenna la rassegna letterale a deviazioni, percorsi di lettura contemporanea. Deviazioni è la sua seconda edizione ed è una rassegna di incontri con gli autori che si tiene presso lo stand della libreria della festa provinciale del Partito Democratico. Sono 18 serate che abbiamo organizzato facendo collaborazioni anche con la Tera Tarra Vennati, cito per esempio Bronson, Lina Rosa, Ferrandello, Ongo, Danilo Montano, Reditore. Sono incontri, suggerimenti, percorsi di lettura contemporanea in cui affronteremo temi che vanno dalla narrativa piuttosto che alla politica, la storia locale, la poesia. Segnano alcuni incontri su 18, ne segnano solo alcuni, sicuramente la prima serata con Ugo Cornia, piuttosto che la seconda con Maurizio Viroli che presenterà il suo saggio La Libertà dei Servi. Sicuramente la terza sera con Nicolai Lilin che faremo in collaborazione con il Bronson. Un'altra serata molto importante secondo me sarà sicuramente quella del 4 settembre in cui Gerardo Baldini verrà a presentare la sua anteprima del libro nuovo. Il 9 è sicuramente con gli autori emergenti Ravennati. L'8 settembre viene attorno a Paolo Nori e sicuramente l'ultima sera in cui Massimiliano Panarale e Loris Mazzetti presentano il loro nuovo libro, L'egemonia sottoculturale. Segnare un'altra iniziativa che non è nel nostro cartellone ma che comunque sia curata da noi in collaborazione naturalmente con il Bronson che sarà l'incontro di domani da Infante all'Anabi, un autore sicuramente molto importante che siamo orgogliosi di avere portato a Ravenna insieme allo staff del Bronson. Grazie a tutti.